buonasera dal teatro sociale di busto arsizia un'emozione poter salire di nuovo su un palco e avere alle spalle un'orchestra un'orchestra che è quella di musicademia diretta dal maestro davide bontempo che torna a suonare dal vivo ma poi in diretta streaming per il pubblico i teatri sono ancora chiusi cinema sono ancora chiusi le sale da concerto sono ancora chiuse la privazione della cultura dal vivo è uno dei grandi danni che questo terribile periodo sta portando sta provocando alle persone lo sta provocando alle nostre menti lo sta provocando ai nostri animi lo sta provocando anche all'economia di un'industria quella culturale e in modo particolare legata al mondo dello spettacolo che sta soffrendo che è davvero in ginocchio è una privazione dell'anima ma è anche una privazione di lavoro di professionalità che non possono esprimersi da mesi ed è una privazione che noi speriamo in qualche modo di compensare minimamente anche attraverso iniziative come queste che hanno ovviamente non solo il patrocinio formale dell'amministrazione comunale dell'assessorato alla cultura ma soprattutto hanno la vicinanza morale e intellettuale in momenti come questi allora noi speriamo attraverso questi concerti di poter in qualche modo colmare un vuoto ma soprattutto portare un momento di sospensione degli affanni perché uno dei grandi valori della cultura è proprio quello di far tanto bene alla salute e credendoci noi continuiamo a provare ad offrirvela sperando il prima possibile di potervi tornare a guardare negli occhi qui nella sala del teatro che in questo momento è triste e vuota come tutti i teatri d'Italia e del mondo e del mondo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.